Non è mai facile raccontare la vita, il significato di una vita quando questa vita è una fiammata, una meteora che esplode immediatamente a contatto col cielo. Noi ci proveremo il 14 luglio a parole e video e il 24 luglio a canzoni grazie a Glass of Winehouse, sempre al battiferro.